Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi, siamo qui per il round numero 19 della nostra ultima stagione della carriera in Formula 1, GP di Mexico City, episodio numero 136 della nostra serie su Motorsport Manager, dedicata alla 1A1 Racing Team, guidata dalla Sadramson. Ovviamente se non avete visto l'ultimo episodio, il round numero 18, il GP del Circuit of the Americas negli Stati Uniti, cliccate in questo momento nell'angolo in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio. Dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo allungato ancora in classifica piloti per Charles Leclerc, quest'oggi c'è il primo match point per provare già con 4 gare di anticipo, con 5 gare considerando questa di anticipo, a vincere il campionato piloti. È una possibilità molto remota perché il distacco tra lui e Arthur Leclerc è di 189 punti e considerando questa gara abbiamo 255 punti a disposizione, però naturalmente se dovesse arrivare un gran risultato per Charles ed un brutto risultato per Arthur Leclerc potrebbe essere questa la gara in cui il pilota Monegasco torna a vincere il campionato mondiale perché mi pare che comunque lui abbia già vinto il campionato del mondo in questa carriera. Comunque, vedremo cosa saremo in grado di fare in questa gara soprattutto da parte di Tio Purcer che riesca magari a tornare a lottare per il podio se noi non faremo errori grossolani. Come sempre vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare la 1 in 1 Racing Team, lasciate un bel commento qui sotto con il vostro pronostico riguardante la prossima gara che è il GP di Interlagos che è previsto tutto sotto la pioggia, tutte le sessioni sotto la pioggia, round numero 20 della stagione di Formula 1, Quart'ultimo episodio della serie, questa la guida al tracciato, lasciate il vostro pronostico e ovviamente se già non lo siete vi chiedo di valutare l'iscrizione al canale e nel caso cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Detto questo ragazzi non perdiamo altro tempo, clicchiamo su continua, andiamo a scegliere Shell come sponsor obiettivi, andiamo a selezionare i nostri treni di gomme come sempre, andiamo su 10 treni di gomme rosse e considerando che la gara sarà sotto il diluvio, sotto la pioggia, andiamo a scegliere più treni di gomme gialle. 8 di gomme gialle e solo 2 di gomme medie che difficilmente andremo ad utilizzare. Montaggio dei componenti già effettuato, scendiamo in pista per il venerdì di prove libere. Ed eccoci pronti per il venerdì di prove libere in quel di Mexico City, Tio Purcer e Vito Freire le nostre scelte, andiamo a modificare il setup delle vetture. Gomma rossa per Vito, gomma gialla per Tio Purcer, scendiamo subito in pista per l'inizio delle prove libere, assetto da gara per Vito Freire, vediamo Tio Purcer che è assetto da qualifica, quindi semplicemente andiamo a modificare le gomme montate dai nostri due piloti e scendiamo in pista per l'inizio di queste prove libere. Noi come sempre ci rivediamo direttamente, che bella la nostra vettura, scusate, per l'inciso, ci rivediamo direttamente per l'inizio del sabato di qualifiche. Ci siamo, siamo pronti per le qualifiche, terminate le prove libere, conoscenze, livello 3 per gomme rosse e gomme gialle, livello 1 per le medie, livello 3 per assetto da qualifiche e assetto da gara, quindi scelta ovvia, gomme rosse, assetto da qualifiche per noi. Il setup è andato un po' così così, dobbiamo migliorarli entrambi anche se in maniera leggera. Modificato il setup delle due vetture, prendiamo parte alle qualifiche e scendiamo immediatamente in pista per il nostro unico giro della sessione, anche se magari potremo provare un secondo giro per vedere di migliorare ulteriormente il setup, ma naturalmente valuteremo in un secondo momento. Ora scendiamo in pista e pensiamo solo a qualificarci per il Q2. Sembriamo molto veloci con Charles in questa pista, tutti i settori fucsia 1.18.3, addirittura 8 decimi di vantaggio nei confronti di Tio Purcher, sicuramente sono comunque entrambi dei giri buoni per qualificarci, ora valuteremo se scendere in pista, solo per valutare un ulteriore miglioramento del setup. Eliminati, Xagoraris, Gasly, Collezu, Noda e Lundgaard, ci qualifichiamo in prima e quinta posizione, siamo scesi in pista per un secondo giro, ora prendiamo parte al nostro Q2 ancora sotto il sole e valutiamo naturalmente il setup. 98% tutto eccellente per Charles Leclerc, forse possiamo fare ancora qualche piccola modifica, abbiamo leggermente peggiorato il bilanciamento della velocità per quanto riguarda Tio Purcher, ma siamo rimasti al 98%, quindi forse con lui riusciamo ora a raggiungere anche un 99%. Charles Leclerc secondo settore fucsia, Arthur Leclerc batte il fratello, nel primo settore Charles Leclerc chiude in 1.18.3 che se non sbaglio è lo stesso tempo del Q1, Purcher chiude a 3 decimi, da Charles Leclerc quindi migliora, ma Arthur Leclerc si mette davanti a tutti, 26 millesimi sul fratello. Valutiamo il setup, abbiamo raggiunto ancora, abbiamo fatto un 98% su Charles Leclerc, penso che sia molto difficile migliorare il suo giro, mentre per quanto riguarda Tio Purcher 99%, facciamo scendere in pista con gomma gialla entrambi i nostri piloti, sperando che migliorino, avete visto abbiamo fatto il primo tempo con gomma rossa, secondo me possono tranquillamente migliorare ora con pista molto più gommata in questo secondo tentativo. Charles Leclerc sta migliorando nettamente nel secondo settore, 4 decimi di vantaggio sul suo tempo precedente, mentre purtroppo Tio Purcher non sta migliorando, quindi rischia di dover partire con la gomma gialla, Charles Leclerc migliora e Tio non migliora. Charles Leclerc un ottimo 1.17.9, il primo a scendere sotto l'1.18, ma purtroppo Tio Purcher dovrà partire con la gomma rossa. Mi sarei aspettato un miglioramento nel secondo tentativo, purtroppo Tio Purcher non c'è riuscito e dovremo tentare una strategia alternativa con il pilota francese. Qualificati in prima e quarta posizione, eliminati Novalac, Herta, Norris, Deguerus e Schwarzman, proseguiamo e prendiamo parte al nostro Q3. Qui a Mexico City naturalmente scendiamo subito in pista con entrambi i nostri piloti, ma andiamo prima in pista a Charles Leclerc e subito a seguire il nostro Tio Purcher. Vediamo il tempo di Charles, doppio fucsia davanti al suo compagno di squadra chiude in 1.18.3 e 1.18.1, splendido tempo da parte di Tio Purcher che si mette per la prima volta davanti al suo compagno di squadra, comincia a piovere e probabilmente non ci sarà modo di migliorare il giro per tutti gli altri piloti e neanche per Charles che rischia di partire in seconda posizione dopo un weekend per ora dominato. Grandissimo giro da parte di Tio Purcher, proveremo comunque a scendere in pista proprio all'ultimo secondo perché sembra che la pioggia possa diminuire. Proveremo a tagliare il traguardo con pochi secondi di anticipo di modo da trovare la pista quanto più asciutta possibile per i nostri piloti. Usciamo 1.47, alla fine esce Tio Purcher e a seguire esce subito anche Charles Leclerc. Entrambi per il loro giro, per il loro secondo tentativo in molti hanno montato la gomma intermedia ed è un errore ora, a meno che la pioggia non vada a riaumentare improvvisamente. Non si stanno migliorando, forse Charles sta leggermente migliorando rispetto al tempo di Tio Purcher che però ha fatto un gran terzo settore in precedenza. Tio Purcher non si sta migliorando, vediamo se Charles Leclerc riesce a rubare il miglior tempo al compagno di squadra e non è così. Con Tio Purcher che a sorpresa sbuca nel Q3 e si prende la pole position battendo il suo compagno di squadra ed è nuovamente dopo tante gare 1-2 per la 1-1 Racing Team. Per noi ottimo questo perché se Tio Purcher riesce in partenza a tenere la posizione può pensare ad una strategia molto buona con Charles Leclerc che con la gialla lo può un po' difendere da tutti gli altri e quindi proviamo a far scappare Tio Purcher. Purcher, Leclerc, prima fila tutta 1-1 Racing Team, seconda fila tutta Red Bull, Leclerc davanti a Lohuson, poi Rass, Zou, Tiktum, Verstappen, Malone, Ipiastri, Novalac, Hertha, Norris, Deguerus, Schwarzman, Xaveraris, Gasly, Colle, Zunoda e Christian Leongard da chiudere. Proseguiamo e vediamo, si parte con l'asciutto perché c'è il pericolo, anzi dovrebbe piovere ma piove solo alla fine della sessione, peccato perché con Tio Purcher dovremmo fare per forza un pit stop per montare un altro treno di gomme rosse mentre con Charles Leclerc proveremo direttamente ad arrivare alla zona pioggia. Conoscenze quindi super morbide, no scusate morbide e assetto da gara per quanto riguarda Charles Leclerc per Tio Purcher potremmo andare anche su piede leggero gomme super morbide però non riuscirebbe comunque a portarle fino al periodo della pioggia. Quindi gomme super morbide e assetto da gara per il pilota in pole position. Andiamo a modificare il setup, più che altro le opzioni del carburante perché con Charles Leclerc lasciamo circa 20 giri, 21 giri di carburante per la sua partenza. Mentre per quanto riguarda Tio Purcher faremo all'incirca una decina di giri con questa gomma quindi lasciamo poco carburante per lui 11 giri di carburante e per quanto riguarda le strategie invece al massimo è modalità motore alta in entrambi i casi per entrambi in partenza. Si parte prima fila tutta 1 in 1 Racing Team ma è Tio Purcher davanti a Charles Leclerc, 5 luci che si spengono in questo istante parte malissimo Tio Purcher che purtroppo viene bruciato anche da una Red Bull. Questo non ci voleva, Tio Purcher parte malissimo bruciato dal compagno di squadra e dalla Red Bull di Liam Lawson e ora passato anche dalla Red Bull di Arthur Leclerc. Attenzione a Tictum, ora perderà probabilmente tantissime posizioni il pilota francese, infatti crolla in sesta posizione e probabilmente ne perderà ulteriormente anche nei confronti dell'Alpine. Riesce a riprendersi la quinta nei confronti di Tictum che però all'interno curva. Vediamo se Purcher riesce a difendersi. Che partenza invece da parte di Charles Leclerc è scattato fortissimo. Tio Purcher in sesta posizione al momento deve cercare di recuperare qualche altra posizione ma viene bruciato forse anche all'interno da parte di George Russell. Attenzione a Piastri dietro. Purcher in settima posizione, partenza disastrosa per lui. Bravissimo Tio Purcher in questa fase della tracciata, l'ha riuscito a guadagnare la posizione su Russell che però riesce poi a difendersi all'esterno e prova anche l'attacco nei confronti di Tictum. Grande attacco di Russell, Purcher che scende nuovamente in settima posizione, dobbiamo subito andare a gestire. Gomma al 63%, non capisco malone con una gomma rossa così tanto usurata. Comunque in quarta posizione, Purcher ci prova. Purcher prova a continuare ad attaccare forte, a riprendersi qualche posizione. Non riesce però a passare Russell e ora rischia di subire l'attacco anche da parte di Novalac mentre Charles Leclerc prova subito a scappare. E ora lo mettiamo in neutrale e gli facciamo terminare questo giro che sarà il giro veloce. E poi lo mandiamo in modalità motore alta, carburante comunque da poter consumare. Anzi, lo mandiamo in sorpasso, ma gli facciamo gestire le temperature, anzi in risparmio. Anche il nostro Tio Purcher, mentre Maloney si è fermato, monta gomma gialla, ora a pista liberissima. Il pilota McLaren per poter spingere nei confronti di tutti gli altri. Vediamo se fare la stessa strategia con Tio Purcher, magari farlo spingere nelle prime fasi in maniera importante per poi fargli trovare pista libera, farlo fermare molto presto e fargli trovare pista libera per poter spingere, fare un undercut potentissimo nei confronti di tutti gli altri. Tio a gomme consumatissime lo abbiamo fatto spingere tantissimo, infatti ora sta perdendo dietro di sé da Novalac, però abbiamo deciso di farlo perché così avrà un po' di pista libera teoricamente davanti, dovrà andare avanti all'incirca fino al ventesimo giro, direi di mettere 13 giri di carburante, condizione dei componenti molto buona, P-stop bilanciato, non gli ho montato forse le gomme nuove, vediamo. Ho visto un avviso là in basso, gomma rossa, opzioni carburante, andiamo di 13 giri, condizione dei componenti molto buona, strategia del P-stop bilanciata e confermiamo la scelta. Vediamo se con un po' di pista libera davanti e magari con qualche P-stop soltanto da dover effettuare riesce a guadagnare, ad effettuare un undercut nei confronti là davanti dei piloti magari di Tictum e di Russell, difficile nei confronti della Red Bull, percato per la brutta partenza di Tio Porcerra, perché avrebbe potuto farsi praticamente difendere dal suo compagno di squadra. Andiamo con Leclerc a gestire la gomma un po' di più, anzi ad attaccare un po' di più sulla gomma, ma gestire un po' di più il carburante. Vediamo il P-stop di Tio Porcerra, se riesce a guadagnare qualcosina in questo P-stop, anzi dopo il P-stop, infatti non trova pista libera, si trova però dietro Maloney che era comunque avanti, ma a gomma gialla. Maloney a gomma gialla e ora andiamo a spingere in modalità neutrale e modalità motore alta, anche con Tio Porcerra per provare un undercut potentissimo nei confronti dei piloti che erano davanti a lui. Porcerra ha appena davanti Max Verstappen, quindi teoricamente abbiamo perso qualcosa, perché Max era dietro e ora ce lo ritroviamo davanti, non riesco a capire il motivo vero e proprio, però vediamo se riesce a guadagnare posizioni nei confronti di altri piloti. Però eravamo appena dietro Russell e invece ci troviamo dietro Verstappen, evidentemente Verstappen ha forzato ed è riuscito a fare un buon passo, ma comunque stiamo raggiungendo i piloti là davanti, Tic Tum e Russell insieme, e ci sono i primi pit stop, vediamo se riusciamo a passare Zhou, dovremmo essere in grado di passare Guanio Zhou là davanti, Louson e Leclerc invece si sono fermati e sono ampiamente davanti, sono in sesta e settima, no, sono in non e undicesima posizione, quindi non sono troppo avanti. Porcerra teoricamente in questo momento si sta giocando la sesta e settima posizione, con Charles Leclerc che invece in una botte di ferro, attenzione a Schwarzman che in terza posizione con la gomma gialla rischia di fare una grandissima gara perché arriverà proprio in zona pioggia. Schianto di Lando Norris, safety car virtuale, andiamo subito a gestire quelle che sono le temperature appunto delle gomme e il carburante di modo da poter allungare ulteriormente il nostro stinto oppure semplicemente andare a spingere il più possibile. Purtroppo con Porcerra non abbiamo guadagnato quanto avremmo dovuto perché Tio Porcerra in questo momento si trova in dodicesima posizione ed è stato scavalcato anche da Colton Herta che ha montato gomma nuova, probabilmente ha sfruttato la safety car, non sono riuscito a vedere in particolare se è riuscito a sfruttare la safety car oppure semplicemente il passo di Porcerra là in fondo. non è stato all'altezza, riparte la safety, andiamo subito in modalità risparmio a spingere in alta con il nostro Tio mentre per quanto riguarda Charles Leclerc abbiamo una gomma al 41% con temperature piuttosto basse, probabilmente con il nostro Charles dobbiamo gestire la gomma molto meglio perché la gomma gialla in questo momento si trova in una condizione in cui dobbiamo spingere, no, dobbiamo spingere, scusate, stavo guardando i tempi, Charles Leclerc in questo momento ha 26 secondi di vantaggio nei confronti di Schwarzman, direi con Charles Leclerc di spingere al massimo e il prossimo giro deve andare a montare una gomma rossa perché abbiamo il tempo per poter spingere e guadagnare ancora nei confronti di Schwarzman, montare una gomma rossa e arrivare fino alla zona pioggia con più tranquillità e possiamo anche tentare di fare il giro più veloce. Quindi alla fine del giro Charles Leclerc si ferma, opzioni carburante per lui naturalmente andiamo a caricare un po' più di carburante, eravamo anche contatti con il carburante, non avevamo calcolato bene direi di mettere 8 giri di carburante per starcene tranquilli, scelta delle gomme, montiamo gomma rossa e strategia del p-stop andiamo di sicura perché abbiamo la possibilità di fare un p-stop sicuro, ci fermiamo con Charles Leclerc, siamo più tranquilli, considerate che taglia il traguardo in questo momento Schwarzman, 27 secondi di svantaggio, con Theo gara completamente rovinata molto dal suo p-stop perché è stato passato anche da Xagoraris che ha fatto il p-stop alternativo, pur c'è ora a pari p-stop con praticamente tutti gli altri, solo con Schwarzman e indietro, Arthur Leclerc intanto primo settore fucsia, si trova in undicesima posizione. Brutta brutta la gara di Theo Purcher fino a questo momento che purtroppo sta pagando veramente tanto in queste ultime gare, Charles Leclerc si ferma per il suo p-stop e andrà a montare gomma rossa, dovrebbe rientrare con grande facilità in pista, andiamo subito in modalità neutrale, in bassa sulla modalità del motore, anzi in media sulla modalità del motore, nel prossimo giro spingeremo subito al massimo, 1.19.8 il tempo di Arthur Leclerc, dovremo teoricamente riuscire a batterlo, rientriamo tranquillamente in prima posizione con il pilota monegasco. Charles Leclerc primo e secondo settore fucsia, vediamo in quanto chiude il giro più veloce della gara, quello che sicuramente sarà il giro più veloce della gara, lo chiude Charles Leclerc in 1.18.834, praticamente un tempo da qualifica, andiamo subito in risparmio, in modalità motore alta e a brevissimo dovrebbe iniziare la pioggia, all'incirca tra 4-5 giri forse, quindi forse è meglio andare in modalità motore media e con Purcher ci dobbiamo fermare nuovamente, è troppo troppo presto, andiamo in bassa e in modalità neutrale, con Purcher ci dovremo fermare prima del dovuto, carburante contato per Purcher, deve fermarsi alla fine del giro, però non ha senso mettere un'intermedia ora, che disastro per il pilota francese, andiamo a montare un altro treno di gomme rosse, facciamo un pit stop super veloce, ma purtroppo la gara, la sua gara, andiamo di pit stop veloce, la gara di Purcher è completamente rovinata in questo momento, andiamo a fermare un attimo, mettiamo anche qualche cosa in più di carburante, gomma rossa nuova, completamente sbagliate le strategie sulla pilota francese, cercheremo di andare un po' più lunghi, e di sfruttare la gomma rossa in anticipo, diciamo durando di più il nostro stint, ma sarà in fondo, molto in fondo Purcher, ma non aveva senso montare in questo momento la gomma intermedia, perdere veramente troppo. Modalità al massimo, modalità motore sorpasso, proviamo a spingere, ma siamo in quattordicesima posizione, ormai abbiamo perso veramente tantissime posizioni, ricordiamo partiva in prima posizione, Tio Purcher si trova in quattordicesima, sia per un brutto passo da parte sua, per una brutta partenza, sia per gli errori ora da parte nostra, che lo hanno costretto ad un secondo pit stop. Si sono fermati Tictum e Xagoraris, e hanno montato già gomma intermedia, schianto per Caio Collè, andiamo bandiera gialla soltanto, quindi andiamo di neutrale, con Tio Purcher e continuiamo a sfingere al massimo sul motore, non comincia a piovere ancora, quindi andiamo anche in bassa per Charles Leclerc, perché anche lui ha carburante piuttosto contato, probabilmente potrà fare solo due, tre giri ancora, prima di montare l'intermedia, ma si stanno praticamente fermando tutti, per montare l'intermedia, ora la pioggia però ancora non c'è, quindi potranno perdere tanto, possiamo pensare di guadagnare ulteriormente con Tio Purcher, grazie ai pit stop di questi piloti, che si sono fermati veramente troppo presto, e avranno una gomma intermedia troppo, troppo usurata, infatti Purcher passa Tictum in questo momento, va a prendere Russell, e passerà anche il pilota della Alpine. Ed ecco che comincia a piovere, probabilmente è il momento già di fermarci con i nostri due piloti, con Charles Leclerc ci fermiamo alla fine del giro, mentre con Tio continuiamo ancora, con Charles ci fermiamo, gomma intermedia, andiamo a mettere un quantitativo di carburante di circa 15 giri, perché ne mancano 14 alla fine, strategia del pit stop andiamo di sicura con Charles Leclerc, perché siamo molto molto tranquilli, mentre con Tio Purcher facciamo un giro aggiuntivo, continuiamo a spingere, passiamo i box in questo momento, pit stop per lui, e montiamo gomma intermedia, opzioni carburante per lui, mettiamo circa 14 giri di carburante, strategia del pit stop con lui, dobbiamo rischiare, andiamo di veloce, speriamo di riguadagnare qualcosina, nei confronti di altri piloti, che magari si possono fermare un po' più tardi. Charles Leclerc rientra, per montare la sua gomma intermedia, probabilmente l'intermedia comincia ora ad essere leggermente più veloce, pit stop per Charles Leclerc, in seconda posizione c'è Colton Hertha, che sta facendo una grande strategia in questo momento, si trova in un'ottima situazione, il pilota dell'Alpine che si andrà a fermare, e non si ferma Colton Hertha, incomprensibile, qui Colton Hertha, perché probabilmente in questo momento le gomme intermedia sono già più veloci, infatti si ferma Lawson, e Arthur Leclerc passa, aveva già montato la gomma intermedia, anche Verstappen passa, si ferma Tio Purcher per il suo pit stop, vediamo se riesce a guadagnare qualcosa, in questa situazione in cui in tanti non si stanno fermando, fortunatamente nessun problema per Tio Purcher, con entrambe le nostre vetture, ora arriveremo in fondo, Tio Purcher purtroppo in quattordicesima posizione, però ci sono dei piloti che hanno una gomma intermedia, molto molto usurata, per esempio Xagoraris là davanti, e quindi possiamo sperare teoricamente di riguadagnare, Hertha ha sbagliato completamente la sua strategia, perché ora sta perdendo veramente tanto, perderà almeno le posizioni nei confronti di Arthur Leclerc, di Verstappen, e anche di George Russell probabilmente. Tre giri dalla fine, grande rimonta da parte di Tio Purcher, che è risalito in ottava posizione, grazie anche al pit stop di Tictum, che purtroppo ha dovuto montare per lui una gomma intermedia nuova, non si fermerà più nessuno là davanti, Verstappen in seconda posizione, Arthur Leclerc in terza, lo usano in quarta, e poi Hertha e Russell in quinta e sesta posizione, con uno splendido Zou in settima, vediamo se Tio Purcher riesce a rimontare nei confronti di Zou, che non è lontanissimo, peccato perché sul bagnato Tio Purcher sta mostrando un grandissimo passo, secondo me, se si fosse trovato più avanti, senza quel pit stop aggiuntivo, non vi dico che si sarebbe potuto giocare un podio con Arthur Leclerc, perché Arthur Leclerc ha anche effettuato un altro pit stop, quindi sono a pari pit stop, ma una quarta posizione sicuramente se la sarebbe potuta giocare. Charles Leclerc alla ultima curva praticamente del tracciato, e va a vincere, taglia il traguardo con 26 secondi di vantaggio su Max Verstappen, dominio totale, Leclerc in terza posizione, quindi per il momento non è campionato del mondo, mentre Max Verstappen, attenzione, seconda posizione, ha finito il carburante, ma riesce comunque a tagliare il traguardo, dicevo, per Charles Leclerc non è ancora mondiale, Zou sta provando l'attacco nei confronti di Russell, che ha praticamente finito il carburante, ed è arrivato anche Purcher, che ha però quasi finito il carburante, De Gerus ha terminato il carburante, ma è dietro, che peccato, Tio Purcher è arrivato molto vicino alla settima posizione di Zou, alla sesta di Russell, taglia il traguardo in ottava posizione, comunque ottima, davvero la sua rimonta, Charles Leclerc, dicevo, non vince il mondiale in maniera matematica, ma si avvicina tantissimo con questo ulteriore risultato, alla fine Max Verstappen è arrivato a oltre 30 secondi, dominio totale del Monegasco. Controlli da parte della FIA, per noi nessun rischio di infrazione, nessuna regola infranta, vince Charles Leclerc, con giro veloce davanti a Max Verstappen e Arthur Leclerc, poi Lawson Herr, Taras, Zou Purcher, Maloney, Tictum, De Gerus, Schwarzman, Novalak, Xagoraris, Lundgaard, Zuno, da Piastri, Gasly, Colle e Lando Norris, con gli ultimi due, che sono finiti fuori per incidente, questo il podio, queste le classifiche, Charles Leclerc in prima posizione, con 205 punti di vantaggio, o forse sì, forse matematica ora, perché mancano 4 gran premi alla fine, e teoricamente vincendo la gara con il giro veloce sono 51 per 4, 204 per un punto, Charles Leclerc è campione del mondo con 4 gare di anticipo, non mi aspettavo visto il risultato, visto il podio di Arthur Leclerc, e invece sì, il giro veloce ha garantito a Charles Leclerc, vabbè se fossero stati anche 204 punti, troppe gare vinte da parte di Charles Leclerc, quindi sarebbe stato matematico comunque, comunque Charles Leclerc con 4 gare di anticipo, vince il campionato piloti, quindi giochi già matematicamente chiosi per il campionato piloti, Arthur Leclerc in seconda posizione, Max Verstappen acquisisce la terza posizione, ai danni del nostro Tio Purcher, prossimo obiettivo per il campionato piloti, provare a far risalire Tio Purcher, in seconda piazza mondiale, per quanto riguarda la classifica costruttori, più 244 punti per noi nei confronti della Ferrari, più 263 nei confronti di Red Bull, dobbiamo farci due conti, comunque il campionato costruttori non è ancora matematico, anche se si sta avvicinando in maniera molto molto veloce, in maniera esponenziale. Reso conto scuderia morale al 100% per tutti, tranne che per Tio Purcher, che scende al 91%, felice il nostro presidente, più 333 mila euro, gli introiti totali al netto di questo fine settimana. Torniamo alla nostra dashboard per i nostri compiti, come sempre prima, i meccanici epistop, non ricordo tra quanto si svolgerà la gara di Interlagos, se proprio tra dieci giorni, sì, tra dieci giorni, meccanici epistop, andiamo a vedere le possibili candidature, non abbiamo candidature valide, perché di energia sono tutti piuttosto bassi, quindi li rifiutiamo tutti, per quanto riguarda invece la squadra, la modifichiamo. Questa sarà la nostra squadra meccanici per il prossimo Gran Premio, il GP di Interlagos, come detto fra dieci giorni, abbiamo tutti i messaggi del fine settimana, andiamo a rifiutare l'intervista, revisione dei meccanici epistop, messaggi che non ci interessano, possiamo proseguire nel nostro calendario, andare alla riparazione della vettura completata, non dobbiamo migliorare i componenti, perché praticamente sono quasi tutti migliorati, anche dal punto di vista dell'affidabilità, ma tra pochi giorni arriverà il nuovo pacchetto freni e un voto, prima dovremo avere la progettazione dei freni completata, no, prima la votazione. Andiamo alla politica, nel campionato si usa solo la safety car reale al posto della virtuale, indecisi la maggior parte, mentre a favore sono Binotto e Toto Wolf per Ferrari e Mercedes, perché a quanto pare avvantaggia le scuderie tradizionali, io sinceramente sono a favore, perché non mi è mai piaciuta la virtual safety car, quindi a questo punto spendiamo gli ultimi voti a nostro favore, e votiamo a favore per provare a far ammettere questa regola, anche se non ci interessa, perché noi a fine stagione non ci saremo più, concludiamo il voto, dovrebbe passare, infatti 5 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti, per quanto riguarda quindi la safety car, ci sarà solo la reale per la stagione che noi non correremo, proseguiamo nel calendario e andiamo alla progettazione dei freni terminata, costruzione dei freni terminata, controlliamo la nostra vettura, andiamo a montare il componente e subito a sviluppare un nuovo componente. Siamo al primo posto come motore, al secondo come freni e al primo posto come elettronica, posteriore, praticamente l'alettone posteriore l'abbiamo sviluppato veramente poco in questa stagione, direi di sviluppare un nuovo pacchetto freni anche per la seconda vettura, e poi sviluppare un nuovo alettone posteriore per cercare di migliorare tutto, tranne che il motore, visto che sono aggiornamenti molto più lunghi, sviluppare tutti i pezzi secondari, quindi freno e alettone posteriore, per la vettura di Tio Purcher, perché il nostro obiettivo, come detto adesso, sarà quello di portare il Tio Purcher al secondo posto mondiale, quindi progettiamo un nuovo componente, e direi di andare a progettare, abbiamo 21 giorni prima di Melbourne, possiamo progettare un nuovo alettone posteriore, e cercheremo di portarlo a livello leggendario. Questo sarà il nuovo alettone posteriore, che arriverà subito dopo Interlagos, prima di Melbourne, costruito in 10 giorni, solo 185.000 euro, diventano 176.000 euro, progettiamo il nuovo componente, proseguiamo nel nostro calendario. E ci siamo, siamo al fine settimana di Interlagos, messaggio di posta, miglioramento affidabilità completato, andiamo a vedere quindi che stiamo migliorando, l'ultimo pezzo arrivato dal punto di vista della prestazione, diventerà un super pacchetto freni, abbiamo raggiunto il 100% di affidabilità, perché come vedete è una zona rossa molto molto accentuata, quindi dovevamo cercare di svilupparlo al 100% per evitare di entrare in zona rossa durante la gara, possiamo tranquillamente tornare alla nostra home, con questo episodio abbiamo terminato, ragazzi se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, supportate la serie, commentate qui sotto con il pronostico riguardante la prossima gara, il GP di Interlagos in Brasile, round numero 20 della stagione, quarto ultimo round stagionale, abbiamo ancora degli obiettivi, abbiamo vinto il campionato piloti, ma obiettivo nel campionato piloti, come detto, riportare Teo Porciano in seconda posizione, obiettivo nel campionato costruttori, vincerlo, semplicemente, non abbiamo altri obiettivi in quel campionato, quindi detto questo ragazzi, io vi ringrazio per la visione, l'appuntamento già lo sapete, quindi alla prossima, ciao Willars!